Noi vediamo che il dialogo non è un'imposizione esterna, non è una strategia politica, ma è una risposta umana, naturale, che ci apre verso l'altra persona e porta all'incontro. Quindi l'incontro genera dialogo, ma il dialogo genera incontro e stabilisce quindi una capacità di costruire comunità. E questo ci porta a delle conclusioni operative. La prima è che si tratta di una scelta che ogni persona deve fare. Dentro ciascuno di noi c'è un atteggiamento che apre il cuore verso l'altro e alla creatività e alla capacità di meravigliarsi, di accettare, di essere insieme con l'altro, di costruire qualcosa di comune. E la seconda alternativa, invece, è di colui che, per proteggere se stesso e la sua identità, si chiude, ma chiudendosi appassisce come un fiore che non ha acqua e che è bruciato dal sole. Quindi in contesti sociali diversi, contesti religiosi e politici e culturali diversi, io ho sempre visto che la difesa propria dell'identità personale o dell'identità del gruppo religioso viene protetta meglio quando si si apre e si accetta l'altro nella sua diversità. Si tratta di avere coraggio, di ascoltare la voce dell'interno di ognuno di noi nell'interiore nostro più profondo in modo che questo dialogo riacquistato da ciascuno di noi nel suo cammino diventa non un momento occasionale della nostra storia o della storia del gruppo a cui apparteniamo, ma diventa un processo di scelta tra l'atteggiamento favorevole all'incontro e l'atteggiamento favorevole alla chiusura. E la scelta è di ciascuno di noi. Grazie. Grazie.